E' far west nelle campagne con furti di olive e mezzi agricoli spesso sventati grazie all'opera puntuale delle forze dell'ordine mentre è stato sfregiato l'ennesimo oliveto lasciando gli olivi deturpati in maniera vile. E' quanto denuncia col diretti Puglia che segnala lo stato di difficoltà che vivono gli agricoltori in campagna in Puglia. Con la campagna olivicola in corso gli agricoltori subiscono l'assalto di bande ben organizzate che in due tre minuti riescono a portar via oltre 30 chili di olive ad albero. Le squadre di malfattori trascinano le reti sotto gli olivi a mano a mano che i complici percuotono i rami per raccogliere il maggior numero possibile di olive incadute. Per questo chiediamo di concerto con la Fondazione Osservatorio sulla Criminalità in Agricoltura di col diretti di collaborare a concretizzare iniziative tempestive ed efficaci di presidio delle aree rurali. Capitolo a parte merita, insiste col diretti, in mercato parallelo di prodotti agricoli provenienti da migliaia di chilometri di distanza. Secondo l'analisi dell'osservatorio sulla criminalità dell'agricoltura e sul sistema agroalimentare promosso da col diretti, sui risultati conseguiti dalle forze di polizia, l'intero comparto agroalimentare è caratterizzato da fenomeni criminali legati a furti e estorsione e alla contraffazione di prodotti alimentari. I danni al sistema sociale ed economico sono molteplici da pericolo per la salute dei consumatori finali all'alterazione del regolare andamento del mercato agroalimentare. Per questo col diretti Puglia chiede una stretta sui controlli per assicurare maggiore sicurezza agli agricoltori e agli operai al mercato del vero made in Italy prodotto in Puglia.